E' stato sorpreso dai carabinieri mentre tentava di strangolare la sua ex convivente che aveva trascinato con la forza in un sottoscala Sansevero dopo averla trovata per strada con sua sorella. Dopo una violenta collottazione i militari sono riusciti a bloccare l'aggressore e hanno chiamato il personale del 118 che ha rianimato la donna di 30 anni che aveva perso i sensi. L'aggressore, un cittadino bulgaro di 40 anni, è stato arrestato con l'accusa di stalking. Poco prima i militari avevano notato in una strada una ragazza che chiedeva aiuto. Si trattava della sorella della vittima che era stata afferrata e trascinata via con violenza dal suo ex. I carabinieri hanno allora imboccato la strada presa dalla donna e dal suo aggressore e nel sottoscala di un condominio hanno sorpreso il cittadino bulgaro mentre stringeva con forza le mani al collo della sua ex. Superato il momento di shock, la vittima ha poi raccontato di subire da mesi le persecuzioni dell'uomo.